Aiuto il Sestante a produrre documenti grafici per perolistica per questa associazione che si occupa di aiutare i profughi. Poi sto facendo anche un nuovo un'agenda per sempre per questi ragazzi e poi troviamo anche il sito per il progetto dell'aiuta. Mi piace quello che sto facendo mi piace anche l'ambiente sto imparando anche questo ambiente dei profughi e dell'accoglienza che mi interessava e sto occupando delle cose nuove e interessanti. Soprattutto in questi giorni si sta parlando tanto e entrare dentro e capire meglio certe dinamiche è un aiuto per noi per inserirti sul mondo del lavoro e anche un modo per carone farsi conoscere, per far conoscere l'ambiente, le situazioni e le varie realtà che ci sono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.